è un'arma che spari un mp5 grigio molto male ma è un po di meno un craig ok qua giac abbiamo cercato un altro posto migliore chiesa la troviamo guido io è un camion è qui agne brisa Qua c'è la gente morta? Anche qua, un bel po' Uh, quella la prendo io se non vi dispi... Ah no, ce l'è qua, scherzo Beh, davvero, c'è pure una maschera antigas Non c'è sto lusso Gassi in arrivo, spostamento della zona sicura Que'è pieno ragazzi Ma che vogliamo fare? Pieno di roba Oh, la maschera antigasola, no? Però... Non c'hanno soldi, figli di puttana Compro un UABU ragazzi Prendete quella corazza Prendete quella corazza Ah, quello ce l'ho già, grazie, grazie La madonna, ma qua che succede? Ah, questa è personalizzata pure? Sì Eh, qua è... Pub è morto qualcuno Non è neanche il mio capitino... No, sì che è il mio capitino Credo, sì Ma dai, così almeno c'è delle armi decenti Andi a lì, ragazzi Non è che là c'è qualche cecchino Lì dalla torre C'è, c'è di... non è meglio prendere questa casa granata tattica anche dai prendi ricercato fabbricio no no lo sa per fare pazzaccio quando sei qua te c'hai la mitaglietta già col cecchino mitaglietta vieni ce l'hai sei pieno qua sono strapieno anche di cecchino eh io sono pieno eh qua l'hanno appena rissato contatto visivo è così che il fabbio non chiude dai fabbio fammi sognare fabbricissimo merda dopo devo prendere un caffè vediamoci in quel punto oh signore c'è di meglio ma c'è anche di peggio esatto l'altra volta è venuto fabbio l'hai visto fabbio quando è venuto ah sì sì mi sono andato proprio a salutarlo sì ma sì ma ha fatto una cosa strana poi fabbio non ha fatto il menù normale no ha fatto la carta no faccio l'aiuto cuoco sì ma ma non fa impazzia però non trovo di meglio ma possiamo avanzare eh comunque ma quello che fa Mirko tipo Jack che Mirko Mirko ha detto che prende 1500 ma secondo me non li prende mai 1500 1500 si può ma lavora in supermercato si ma poi fa solo cioè fa metà giornata tipo si a lui a turni eh eh infatti come è impossibile che prenda 1500 dai cioè al supermercato non pagano così ah sì in arrivo beh infatti non lo so ma le ho chiesto a lui se chi deve se c'è altro bisogno ancora bene di personale che cazzo andiamo si può salire su sta cazzo di struttura ma andami il sito dopo che mando il cura di cominciare a briscia dov'è 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 che si sale su sto posto? dov'è dov'è che si sale su sto posto? cazzo e qua? ma come salgo? c'è la zip è qua ah sì ah non c'è nessuno sotto secondo me hanno fatto la cazzo eccoli infatti qui c'è un bersaglio là lo so ahia oh merda mi ha colpito bene occhio occhio mica sta capa fa cagarissimo oh che è che non salgano eh oh che è che non salgano eh avete un lancio di equipaggiamento in arrivo eccole dio boh non c'è non so sono saliti? no no non ancora contatto visivo vediamo 5 il punto l'ho rotto è di sotto gli dà le munizioni prendete quei colpi di piccolo calibro cazzi in avvicinamento eh vaffanculo vai non ci credo danni che cazzo addio non venite addio fabio non venire ci salvi ci salvi c'è una zip oh occhio che c'è una zip fabbro porca leva copri la zip eh che è in fondo ai lati non temere ci sono io dove siamo saliti noi cazzo di cui sono bravo copri la zip là è pericoloso anche lì è da davanti c'è la zip ostile in vista pistola extra laggiù cazzo in movimento non ci credo non ci credo ancora di un po' guarda togliete di quel ping di quella pistola por favore non l'ho messo io è il mister fabbro ce ne avete due gli scuri si quelli che te hai sprecato combattendo maiale mamma mia non lo so Fabricio me ne dai altri due portavozzi stanno perdendo terreno perfetto ah c'è chino c'è chino cambio posizione la zona sicura è laggiù andiamo si stavo dai non è vero ho saltato pazzesco comunque esattamente dal ping verde attacco il bersaglio guarda qua che arriva la zona la zona sicura riposizionata ma dobbiamo scendere scendiamo qua davanti sempre sopra però attacco il bersaglio atterrato atterrato ho confermato è inglese è inglese zona sicura riposizionata il problema è che non ci abbiamo ce n'è uno lì dalle scale che sto tenendo puntato io e c'è un alto ancora ma dai che sfigace c'è solo uno scudo io c'ho l'UAV l'UAV alleato in sormolo avvio scansione radar sta salendo arriva il gas muovete il 1 tutti nella zona sicura ah bezza sono lì sotto dai mettiamo anche la rampa no no non rischiarla non rischiarla che non ci abbiamo un cazzo di freddo sistema trofe in funzione siamo 3 2 5 e 2 stiamo scudando maiali quanti scudi alfa bro gas in movimento nuova zona sicura individuata io c'ho la maschera oro e' un po' di maschera ecco lì lancio la terbino ucciso ucciso merda siii let's go man let's go ah no 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 non è finita ah sic è finita sii alebet grande è quello intelligente che fa l'ultima kill quante kill hai fatto fabbro che se ne hai fatto 3 dobbiamo fare un'altra no no merda recuperate le kill del fabbro maiale allora sei già andato via che partita ragazzi non c'è storia c'è prima il fabbro non ci credo ha cambiato le skin ma che cazzo no no e' lo dico beh ha cambiato ha cambiato ma non uscire che va su youtube let's go quante kill quante kill ho fatto io ho messo a porchi io ho una credo no due dai ma ti hai fatto lì nei stessi danni ho fatto più danni del fabbro dai ciao belli chico chico Grazie a tutti